A Roseto degli Abruzzi l'installazione del T-Red, l'apparecchio che rileva le infrazioni installato in agosto nell'impianto semaforico all'incrocio tra Statale 16 e Via Santa Petronilla a sud del Comune Costiero, ha suscitato polemiche da parte di automobilisti in particolare quelli che vanno a lavorare nella zona industriale di Scerne e transitano lì ogni mattina e sera. Complice la mancanza del contasecondi, alcuni automobilisti frenano di colpo con il giallo e alcuni anche con il verde per evitare la multa ma così si rischiano tamponamenti. Una situazione su cui l'amministrazione del Comune Costiero però continua a ribadire che il sistema serve per aumentare la sicurezza. In un incrocio considerato pericoloso l'installazione di un timer aumenterebbe la velocità degli automobilisti. Possiamo dire che nel Consiglio di Quartiera di Roseto Sud della settimana scorsa io e il Vice Sindaco Marconi ad esempio abbiamo ricevuto invece dei complimenti rispetto al miglioramento della sicurezza che c'è perché come sappiamo avvicinandosi a un semaforo che sta per scattare a livello di sicurezza il rosso la macchina tende ad accelerare ed è proprio quello che noi dobbiamo scongiurare. Il timer non farebbe altro che aumentare la corsa verso il semaforo, cosa che per quanto mi riguarda essendo appunto la sicurezza del primo punto va scongiurata. Per il resto credo che è una scelta che soprattutto lavora sugli onesti perché i tanti cittadini onesti che rispettano le regole ci ringraziano a fronte di quelli che evidentemente forse potrebbero migliorare il loro atteggiamento, lo dico anche a me stesso, noi ci mettiamo in discussione quando stiamo sulla strada. Abbiamo visto quanto è importante la sicurezza, quanto è rischioso essere sulla strada, quindi ogni strumento, il T-RED come l'autovelox ma anche come i rallentatori, tutte le azioni che migliorano la viabilità saranno in primis al centro del mio programma di governo. Nel frattempo in questi giorni i tecnici sono intervenuti per spostare il sensore che rileva la presenza delle auto nell'incrocio, un'operazione che dovrebbe risolvere il problema delle lunghe file che si formano in uscita da via Santa Petronilla. Oltre a questo l'amministrazione sta valutando se e dove installare nuovi dispositivi. Di certo stiamo ragionando in altri punti della città dove appunto c'è questo rischio, per esempio Roseto Nord, per esempio anche sulla 150, ovviamente una valutazione che facciamo con i consigli di quartiere. Perché? Perché sono quei luoghi in cui il dibattito è concreto, non è social ma è reale e in cui ovviamente c'è la possibilità di portare dati ma anche di prendere delle eccezioni che possono far migliorare i progetti.